capitolo terzo in cui il mago baol ritrova qualcosa che aveva perduto e l'avventura diventa tosta bisogna vedere i nemici che si hanno non bisogna vedere più nemici di quanti se ne hanno baol libro secondo pagina 340 341 male non fare paura non avere adolf hitler siamo discesi per milioni di gradini di ferro così mi è sembrato e i nostri passi rimbombavano e si moltiplicavano fino a riempire l'aria di un metallico tam tam la mole immensa di rene la mucca mi precedeva ondeggiando fin quando il frastuono cessò e camminammo furtivi su un pavimento di linoleum ci accolse la luce artificiale di un giardino sotterraneo una giungla di piante vere e sintetiche c'era odore di limone e ozono torsolone di antiquariato stavano in agguato qua e là verginone tronche guerrieri invalidi colonne mozze piacevoli bar terrazza ghiaietto vetri fumè e dappertutto cascatelle d'acqua pisciatine nascoste zampilli illuminati una musica di vibrafono nell'aria un reparto sotterraneo per il relax dirigenziale un cielo stellato di perspex ci sovrastava il nostro contatto è qui disse rene la mucca nascondendo una minima parte di sé dietro una palma il nostro sono anche io nel gioco baol non fare il furbo ti devo accompagnare dal tuo alice è il mio compito poi ti arrangerai c'è un piccolo problema se dobbiamo circolare qui dissi sembriamo dei dirigenti rene la mucca esaminò con tristezza il completino domopac dal matato che pure gli stava così bene non va eh ci penso io dissi da un bar usciva un giovane managero con un vestitino verde dollaro e un tesserino da vip palocchiello splendeva nel suo volto quell'intelligenza così libera da pregiudizi e barriere ideologiche da sembrare molto simile a un ottundimento lo affrontai gli premetti un dito sulla fronte e dissi le piacerebbe occupare la stanza del direttore generale certo che mi piacerebbe balbettò il managero ma niente ma risponda le piacerebbe stare dietro alla suprema scrivania certo che sì ebbene dissi fissandolo in modo ipno sedutivo con mio sguardo baol cerchi di concentrarsi cos'è che sta sempre dietro la scrivania dentro la stanza del direttore generale glielo dico io il ficus certo rispose quello il ficus la sua pianta preferita sì di giorno e di notte il ficus occupa quella stanza e domina la situazione tutti i giorni il direttore generale lo annaffia personalmente il ficus conosce tutti i suoi segreti partecipa alle sue gioie ma è immune dalle sue ire mai un ficus è stato licenziato i direttori passano i ficus restano quale carriere più felice più vicina ai vertici aziendali e nel contempo priva di rischi e responsabilità voglio essere un ficus disse il managero con gli occhi lucidi perfetto ora mi ascolti bene lei è uno splendido esemplare di ficus lanceolatus ora si spoglierà dei suoi vestiti e si nasconderà in quel giardino tra i suoi simili verdi ne studierà le abitudini la funzione clorofillare il ricambio delle foglie imparerà assorbire acqua come si conviene a un ficus professionista dopo il corso di aggiornamento provvederemo a trasferirla nell'ufficio del direttore generale sono un ficus proclamò il managero con un bagliore botanico nello sguardo si spogliò fulmineo e si infilò tra le piante verso la sua nuova vita indossai il suo vestito ora ero un dirigente di primo livello e René la mia guardia del corpo e adesso dove si va chiesi a una festa capo disse René guardandomi ammirato atelier seneca bonito don il re del casual è lieto di presentare il prossimo libro di melissa turbo de san bonnard olivic card hollowed la scritta troneggiava l'entrata di una grande porta ad orna di encarpi di anaconde in cashmere e colonne pandoriche dall'interno veniva rumore di rissacca festaiola mentre ci avvicinavamo ci investì una ventata di caprice in protubizarre desart delirio salvage violence stupe surprise e altri aromi di cui i festanti erano inzuppati questo è l'unico posto dove il tuo Alice può avvicinare uno sconosciuto senza dare nell'occhio di sereni la mucca ma cosa vuol dire only vip card hollowed possono entrare solo le vip cards merda disse René rivelando le sue origini francofone niente affatto il nostro amico ficus aveva un vip una vip card con foto e grazie a un paio di occhiali una perfetta mimesi facciale vaol io entrerò senza destare sospetti e tu sarai il mio guardaspalle perciò comincia a guardarmele d'accord disse René la mucca andò tutto liscio due maggior doberman ci perquisirono con mano esperta controllarono la vip card e si inchinarono René fu messo nella sala gorilla a rimpinzarsi di rognoni io entrai era una tranquilla festa di regime nel mio nuovo ruolo di managero mi adentrai nella folla di gerarchetti e clarette mentre camerieri veloci come pattinatori impollinavano di champagne ogni angolo e l'orchestra suonava love in ibiza bell'ambientino ricordai subito ciò che diceva il mio maestro baol il vero baol non si annoia mai tutt'al più si addormenta quanta saggezza nei nostri antichi testi mi diressi al buffet c'erano per lo più insalate gigantesche insalate ove era mescolato tutto ciò che costava di più senza tener conto del risultato ne assaggiai una di salmone papaya cervelletti di cincillà bottarga granchio e cozze albine presi una quadrupa tartina e la asfaltai di caviale mi feci versare un flute di fernet e considerai la situazione al primo tavolo vidi il padrone dell'atelier il celebre bonito bon re del casual era vestito nel suo stile in modo cioè che tutto sembrava lì per caso era passato un foulard che si era impigliato in una camicia su cui era calata una giacca sotto la quale avevano cercato rifugio un paio di jeans della ve in fondo ai quali si era acquattato un paio di scarpe da tennis della migliore annata in realtà quella era la combinazione 16b delle 372 con cui il trasandato regolamentava accuratamente la sua trasandatezza condizioni che erano in vendita in più di 100 città nelle quali i negozi bon avevano spodestato musei orfanotrofi e monumenti nazionali bonito bon sorrideva agli invitati abbronzato con la bellezza un po sciupata dei cinquantenni che esagerano col tennis era chiaro dal movimento di malstrom mondano che attirava tutti verso il suo tavolo che gli era il centro della festa subito dopo il secondo tavolo per possanza mondana era quello di melissa turbo nota best sellerista nonché moglie dell'industriale dell'auto flaviano turbo proprietario di squadre di palla canestro palla a mano pallavolo e altre palle melissa brillava rivestita di una frana di collane di diverso spessore composite di perlone perline perloidi ovoline nocciole chicchi canolicchi provole emisferi granulomi e biglie sorrideva dietro un ventaglio su cui era riprodotta la copertina del suo prossimo libro per il quale appunto le veniva assegnato il premio prossimo stava per non ancora scritto da qualche tempo infatti si era deciso di non premiare ogni scrittore si era deciso di premiare ogni scrittore prima dell'uscita del suo libro con tre considerevoli vantaggi a si eliminava l'ansia dell'autore vincerà un premio o no e anche la tensione tra gli autori la vincerà lui o io dato che tutti venivano premiati prima b si eliminava il faticoso lavoro delle giurie e soprattutto la fatica di leggere lato quanto mai spiacevole del lavoro di giurato mantenendone però gli aspetti culturali principi quali il prestigio di essere in giuria e il pranzo finale c si eliminava ogni polemica nessuno poteva dire avete premiato un brutto libro perché nessuno poteva averlo letto per questo il clima tra gli addetti ai lavori era disteso e sereno e si intrecciavano brindisi mentre la giuria seduta un tavolo stracolmo di rose e rosbif chiusava l'infelice situazione del belle lettere del nostro paese buttai giù un altro fernette e presi a muovermi tra i tavoli ero rimasto solo per troppo tempo e già alcuni inservienti mi guardavano strano un vip che non conosce nessuno non è un vip al terzo tavolo vidi dei creativi pubblicitari che discutevano su wody allen è un buon testimonial per preservativi da veri creativi quasi tutti scolpivano animaletti di mollicas e sul tavolo c'era uno zoo a un quarto tavolo c'era uno stilista annoiato con quattro modelli torvi quattro modelle incazzate e un levriero idrofobo a un quinto tavolo c'era un folto gruppo di intellettuali che si chiedevano se in certi paesi un intellettuale debba esserci o non esserci era un tavolo che c'era sempre al sesto tavolo un gerarchetto noto trafficante di armi mostrava ad alcuni stranieri eccitati un book di missili aprì il paginone centrale con una porta aerea inuda e fischiarono di libidine al settimo tavolo c'era un noto personaggio che aveva fondato una loggia segreta ed era stato per anni la fogna dei vizi nazionali il bersaglio della generale indignazione e nemico numero uno della democrazia adesso faceva il consulente finanziario all'ottavo tavolo c'erano accalcati 16 direttori di giornali che parlavano con il proprietario dei loro giornali dell'eccessiva concentrazione della stampa al nono tavolo c'era tutto il servizio d'ordine di spacca di le ossa che era diventata una scuola di barca a vela al decimo tavolo c'era lei il cuore mi si fermò si fa per dire la testa mi girò davvero mi aggrappai alla tovaglia del buffet facendolo crollare tutto e dando luogo a un'insalata di insalate un consorzio di mousse e una holding di macedonie lei era la la donna che aveva devastato la mia vita era tornata non era lei ma quasi cioè l'anima di lei era la un baol non si sbaglia proprio nel momento che capì che non era lei mi ricordai di lei e fui certo che nessun'altra come lei avrebbe potuto somigliare in quel modo a lei sono stato chiaro no e come posso c'è lei a quel tavolo c'era alice o almeno una donna somigliante in modo impressionante ad alice alice aveva stupendi lunghi capelli biondi e alice aveva splendidi corti capelli neri alice aveva meravigliosi occhi azzurri occhiali e alice aveva splendidi occhi gialli e buona visione alice aveva incantevoli spalle a forma di cuore e un neo sulla spalla destra alice aveva splendide spalle a forma di cuore ma non aveva al neo alice non fumava e alice fumava alice guardava in un certo modo e anche alice guardava in un certo modo così avanzai verso di lei come su un cuscino all'aria scostando gomiti ed epiteti mi sedetti al suo fianco vuotai il contenuto di tutti i bicchieri del tavolo e di due tavoli contigui poi dissi mademoiselle dato che al momento non ho in mente una frase originale per abbordarla potrebbe essere così gentile da suggerirmela in modo da evitarci un lungo e imbarazzante silenzio potrebbe dirmi che ne ricordo qualcuno disse lei sì qualcuno che credevo di avere perduto e ora mi sembra di avere ritrovato molto originale permetta che mi presenti mi chiamo melchia de bedrosian baol e io sono alice il tuo contatto come hai fatto a trovarmi veramente sei tu che hai trovato me balliamo balliamo ballammo